Riesco a leggerti la mente in 30 secondi Sì vabbè impossibile Prova a pensare a una qualsiasi nazione europea Per esempio il Portogallo Adesso cerca l'ultima lettera del nome di questa nazione Nel mio caso la lettera O A partire dalla lettera che hai in mente Trova il colore corrispondente Ho fatto la rima A partire dal colore che adesso hai in mente Seleziona una carta da gioco La carta che adesso hai in mente È questa Come no Scusami a quale carta hai pensato La regina di cuori giusto